Dopo due sconfitte consecutive torna al successo l'Adflex che senza Antonutti supera in casa 97-64 la Open Job Metis, conserva l'imbattibilità interna e sale a quattro punti in classifica, gli stessi di Varese che subisce il terzo KO su altre tante sfide on the road. Hawkins è ispirato, la difesa di Esposito pure e i padroni di casa si portano su più otto con soli nove punti subiti, più nove in apertura di secondo periodo. Campani e Johnson guidano la reazione degli ospiti che rientrano a meno quattro, ma è un fuoco di paglia. Petway e Crosariol danno inizio al parziale di 19 a 9 in sette minuti che vale il più 14 in favore dell'Adflex. La Open Job Metis non riesce a trovare continuità in fase di produzione, Pistoia invece viaggia col turbo inserito, arriva un altro break per i Toscani, 16 a 5 in 6 minuti e più 25 sul tabellone elettronico, 64 a 39 al trentesimo. Nel quarto periodo l'Adflex non si ferma, i Lombardi crollano e piombano a meno 34 a poche battute dalla conclusione, 33 su 49 da 2 e più 11 a rimbalzo per Pistoia contro il 14 su 35, 19 possessi ceduti degli avversari. Ventello con 8 su 10 dal campo per Cournot, 14 per Petway, 11 e 8 palloni catturati per Lombardi, 7 gli assist di Moore dall'altro lato, 15 punti per Cavaliero.